Fossano, vigilia di debutto in campionato per il Fossano Calcio in questo campionato di Serie D siamo in compagnia di Marco Cristini, centrocampista bianco-blu allora Marco innanzitutto, che clima si respira qui a Fossano alla vigilia di questa gara che per tutta la società chiaramente è un punto di partenza importante in questa stagione? C'è tanta voglia di cominciare, abbiamo iniziato questo ritiro il 22 luglio abbiamo affrontato tante partite amichevoli, Coppa Italia, il classico calcio d'agosto però ora siamo arrivati alle partite che contano e c'è da parte di tutti, sia noi che della società la voglia di cominciare questo campionato che da tanti anni qua non si vedeva Avete rotto il ghiaccio due settimane fa in Coppa Italia su che cosa vi siete concentrati in queste due settimane di stop a parte amichevoli impegni comunque non ufficiale? Ci siamo dedicati al preparare meglio soprattutto fisicamente e come amalgama di squadra comunque ci sono diversi ragazzi nuovi, siamo molto giovani quindi abbiamo bisogno di lavorare il doppio degli altri per riuscire a trovare una quadra per poter essere competitivi Per quanto riguarda la partita di domani, arriva il Prato, che avversari hai? L'avete sicuramente studiato in settimana cosa vi aspettate? Perché chiaramente a inizio stagione è ancora difficile capire quali possono essere le forze in campo? Il Prato è una squadra attrezzata per vincere questo campionato a giocatori che hanno fatto categorie superiori e quindi partiremo col botto contro una squadra molto competitiva che verrà qua sicuramente per vincere per fare bottino pieno e per noi deve essere solo uno stimolo in più giocare contro squadre così così importanti, diciamo, deve essere per noi uno stimolo per fare meglio e deve esserci entusiasmo da parte di tutti per dare quel qualcosa in più che sarà utile per la stagione sarà una stagione difficile, lo sappiamo, ma affronteremo partita per partita con il massimo impegno